Buon pomeriggio da Sergio Catalani, dallo stadio Mancini di Fano, terza giornata di campionato nazionale di lettanti Serie D, Girone F. Il tocco verso... Sivilla, la palla è buona, Sivilla! Andrea! Sivilla! 1-0! Il gol dell'Alma Juventus-Fano! Intanto, attenzione, in qualche modo c'è il gol, c'è il gol del Giulianova, una sbavatura difensiva, segna Gian Sante, Sassaroli intanto, il tocco verso Borrelli, la palla è buona, va via Borrelli, posizione della sinistra, Borrelli, entra in area Borrelli, il tocco falso, c'è Gucci e la palla è in rete! È Sivilla! Andrea! Sivilla! Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi in questo istante, vittoria doveva essere, vittoria è stata, ma quanta fatica per l'Alma Juventus che batte per due reti a uno un indomito Giulianova.